Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato, aver accolto il nostro invito. Vedo che l'argomento, il tumore della prostata, è un argomento che interessa più il pubblico femminile di quello maschile e ne parleremo durante le sessioni. Ringrazio la dottoressa Mariani, la nostra direttrice generale, e il dottor Rossi, il nostro direttore sanitario, per introdurre i lavori e averci dato questa manifestazione e aver sottolineato l'importanza del convegno. Quindi non faccio perdere tempo ai lavori, do la parola a dottoressa Mariani per l'introduzione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dottor Delboga e grazie innanzitutto agli organizzatori, dottor Delboga, dottor Benecchi, i suoi collaboratori, di questo incontro, di questo convegno va a toccare delle problematiche che sono comunque molto rilevanti in questo periodo sociale di vita che affrontiamo, soprattutto tenendo conto dell'avanzamento dell'età media delle persone. Quindi se taluni problemi potevano essere diffusi alcuni decenni fa, certamente oggi con l'allungamento della vita, determinate problematiche aumentano nella popolazione maschile. Quindi noi donne, come solidarietà, visto che lei l'ha detto prima, siamo ovviamente interessate alla salute dei nostri, dell'altra metà del cielo, e quindi affrontiamo insieme a voi queste problematiche. Problematiche che ovviamente come unità operativa di urologia state affrontando e che determinate possibilità che oggi la medicina ci mette a disposizione ovviamente sono più facilmente individuabili, gli studi ce lo permettono e le diagnosi precoci aiutano decisamente nella cura di queste problematiche. Oggi parlerete di problemi che riguardano l'incidenza delle patologie prostatiche e poi l'approccio pluridisciplinare. Ecco, ovviamente lo sapete tutti che le problematiche che riguardano la prostatite, l'ipertrofia prostatica benigna e i tumori alla prostata sono problemi che toccano veramente dei numeri piuttosto importanti degli uomini. Gli studi, i dati ce lo dicono, quando parliamo di ipertrofia parliamo del più del 50% della popolazione maschile che ha un'età compresa fra i 60 e i 69 anni che viene colpita da questa problematica. Quando parliamo di tumore alla prostata i dati aumentano, si registrano circa in Italia parliamo, 11.000 nuove casi all'anno e tra questi ci sono circa 6.300 decessi, quindi il 7% delle morti di tumore negli uomini e sappiamo che questo tumore è secondo soltanto al tumore al polmone e anche le case di mortalità sono appunto la seconda causa. ecco quindi il problema è decisamente un problema rilevante, un problema importante e vari studi ovviamente se ne stanno occupando. Noi nella nostra unità di urologia, e oggi questo vuole essere proprio un primo momento, certamente abbiamo presente tutto questo e sappiamo anche come le diagnosi, come dicevo prima, precoci aiutano su questo. certamente andando avanti nel tempo con la sensibilizzazione anche sulla popolazione maschile, sulle visite, sui PSA, tutto questo è più facilmente identificabile e sappiamo anche che tutto ciò può aiutare anche nella cura, nella cura che quindi può essere sia l'intervento e certamente nella nostra unità e quindi nella nostra azienda ospedaliera si vuole perseguire anche una via di approcci meno invasivi e quindi si parla di trattamenti endorologici, si tratta di laparoscopia a livello flessibile, quindi certamente un approccio è voluto un approccio avanzato. Ma sappiamo anche che c'è una possibilità, c'è una possibilità di fare prevenzione, perché a proposito di casistica si parla di tumore alla prostata, ma alcuni dati ci dicono che l'incidenza è più alta, per esempio nel nord del nostro paese, dovuta ad abitudini alimentari, quindi anche il fumo ha il suo peso e quindi la prevenzione sui corretti stili di vita che tanto parliamo e che ovviamente è diffusa anche in campo oncologico, i miei collaboratori, io dottoressa Caffo e dottor Passaracqua che parliamo di oncologia spesso sanno come questo stile di vita corretto nell'alimentazione, nel non abuso di fumo e alcol aiuta molto sulla prevenzione di questa problematica e quindi anche in questo senso la prevenzione ha un significato importante. Cos'altro dire? Parliamo appunto di studi, parliamo di evoluzioni e allora si legge, tra l'altro proprio questa mattina sulla stampa quotidiana c'è qualcosa che avevo già riscontrato per quanto riguarda l'approccio sulla cura del cancro alla prostata perché proprio uno studio ci diceva, ci parlava di ricercatori che utilizzano, hanno verificato l'utilizzo di un chip contro il cancro alla prostata, quindi basato sulle nanotecnologie e proprio questa mattina come dicevo si parlava di studi anche proprio al nostro livello del universitario del CNR di Siena sulle nanotecnologie ed ecco che quindi chip ritorna quindi del micro, lo studio del micro applicato in medicina nelle terapie tumorali. Questo perché applicato su determinate parti permette di rilasciare e di veicolare medicinali direttamente sulle parti interessate e quindi abbia meno effetti collaterali anche sul paziente. Quindi questo vuol dire che si studia sempre di più, si evolve sempre di più e quindi l'approccio decisamente è un approccio evoluto. Quindi io credo che quando si affrontano questa materia certamente è importante anche così confrontarsi su quelli che sono le evoluzioni nell'ambito degli studi. È vero che quando si parla di evoluzioni talora si trovano anche cose abbastanza così che ci attirano l'attenzione. Io ne ho trovata una che parla di contrastare il tumore alla prostata con il carry e quindi sottoposti i pazienti a una cura particolare con questa particolare sostanza. Allora chiaramente tutto questo è interessante, chiaramente tutto questo ci fa riflettere e ci fa anche valutare gli approcci. Io permettetemi di dire anche prima di chiudere e lasciarvi ai lavori importanti della giornata che quando parliamo di problematiche sulla popolazione maschile io vorrei fare un brevissimo accenno anche alle problematiche di rare tumori nei maschi che possono derivare dal virus dell'HPV. Noi parliamo sempre di vaccinare le donne e sappiamo che le bambine di undici anni sono ormai nel nostro programma di screening nazionale sottoposti al vaccino ma io credo che forse degli studi ce lo confermano anche negli Stati Uniti stanno già iniziando questo approccio vaccinare i giovani maschi perché non soltanto per le problematiche che possono insorgere proprio in loro e quindi formazioni tumorali piuttosto che condilomi, verruche eccetera ma anche per la trasmissione proprio perché vaccinarli vuol dire anche ridurre la trasmissione del virus nelle partner. Questo io credo che è una riflessione che ci dobbiamo porre quando parliamo ovviamente di problematiche legate alla popolazione maschile e quindi visto che oggi è un incontro che tratta proprio questo tipo di problemi mi sembrava giusto ricordarlo e così buttare una provocazione, una proposta per non dimenticarci che esistono questi problemi. Io credo che nell'ambito della nostra azienda ospedaliera e oggi questo incontro nella prova non solo come dicevamo all'inizio le diagnosi precoci ma anche l'approccio interdisciplinare e quindi il discutere temi, problematiche dei nostri pazienti tra i vari specialisti sia l'approccio vincente perché questo vuol dire mettere i pazienti in condizioni di non affrontare da soli e non sapere come proseguire il proprio percorso ma di dargli un percorso assistito dove ovviamente il paziente è al centro perché questo è il nostro obiettivo e dove quindi la cura viene affrontata, condivisa tra specialisti. Questo io ritengo che sia insieme a cure non invasive, alle diagnosi precoci un punto assolutamente di forza di questa azienda che si rafforza sempre di più sulle sue specialità di punta e da un servizio sicuramente ai propri cittadini sul territorio molto importante come punto di riferimento di cura. Io vi auguro una buona giornata, ringrazio tutti i relatori che ovviamente fanno parte di questa giornata di lavoro e gli organizzatori ovviamente. Grazie. Ringrazio la dottoressa Mariani per questa dotta relazione e mi complimento anche perché è riuscita con molta acutezza a anticipare e a sintetizzare gli argomenti che verranno poi sviluppati successivamente. Quindi iniziamo i lavori, grazie ancora per la gentile partecipazione. Allora entriamo nella scaletta organizzativa del convegno, io mi limito a fare solo una, a accennare solo le problematiche che verranno sviluppate. Vi rubo due minuti, due minuti di numero, tanto per definire l'argomento del quale stiamo parlando. Il tumore della prostata, come ha già accennato la direttrice, è una patologia sociale, ha un'incidenza epidemiologica estremamente diffusa ed è il secondo tumore per diffusione dopo il tumore del polmone, ma diventa il primo dopo i 70 anni di età. In Italia c'è una stima di circa 23-24 mila nuovi casi per anno e praticamente un uomo su 16 svilupperà un tumore della prostata nel nostro paese. Questa incidenza pare che si stia raddoppiando negli ultimi anni. Ci sono differenze epidemiologiche notevoli tra il continente e un altro continente e questo fa pensare che lo stile di vita, le abitudini alimentari e quindi anche argomenti legati alle abitudini di vita possono avere un'incidenza nel determinare il tumore della prostata. Chi è a rischio per il tumore della prostata? Innanzitutto il fattore di rischio principale è l'età. Il tumore della prostata è una neoplasia che predilige l'età avanzate, specialmente dopo i 65-70 anni. è un tumore che ha varie manifestazioni del tumore della prostata. Innanzitutto c'è il tumore clinico, quello che noi scopriamo facendo la visita e vari accertamenti inerenti alla visita. c'è il tumore incidentale che è quello che scopriamo quando operiamo una prostata benigna, un adenoma prostatico, troviamo, il patologo ci segnala che ci sono dei focolai di tumore della prostata e questo si chiama incidentale. C'è il tumore occulto che è quello che noi non conosciamo ma viene scoperto perché il paziente magari ha un crollo patologico di una vertebra oppure ha una metastasi, ha un osso e quindi si scopre successivamente che l'eziologia era dovuta a un tumore della prostata. E poi c'è la forma molto diffusa che è quello latente, che è il tumore della prostata che viene scoperto se il paziente, se il soggetto viene sottoposto ad autopsia dopo la morte. Quindi il tumore della prostata oltre a quelli che riusciamo a diagnosticare è una patologia molto frequente. Questo sottolinea però che a fronte di questa alta frequenza non c'è un'aggressività, biologica come c'è per altri tumori. Quindi in molti casi può essere considerato come un ospite, può essere considerato una malattia che non avrà un'evoluzione successivamente. E anche questo fa parte un po' del fascino dell'argomento perché è una malattia che richiede molta conoscenza e molta cultura anche per discriminare i pazienti che dovranno essere trattati e quelli che potranno essere solo sorvegliati. Mi riferivo un attimo all'oziologia, dicevo che l'età è uno dei primi fattori di rischio, sappiamo poi che in qualche modo la prostata è un tumore che ha una dipendenza dagli ormoni. oggigiorno ci sono molte, è molto affascinante il campo di sviluppo in campo genetico perché ci sono le modificazioni di alcuni geni che sono peraltro già stati identificati, aumenta di molto l'incidenza del tumore della prostata. Oltre che sempre per quanto riguarda l'eziologia anche fattori che sono inerenti alle abitudini di vita e alle abitudini alimentari, quindi ci sono diete che favoriscono l'insorgenza del tumore come quelle ricche di grassi insaturi e invece diete che in un certo modo prevengono l'insorgenza del tumore. Nel punto di vista istologico non mi dilungo perché poi avremo una relazione del patologo sull'argomento, comunque il tipo più comune è l'adenocarcinoma e quindi il tumore che insorge dalle ghiandole prostatiche però non è l'unico tipo. Per quanto riguarda i sintomi, i sintomi del tumore della prostata, perlomeno i sintomi locali sono molto scarsi o addirittura assenti e quindi abbiamo già concluso l'argomento. La diagnosi invece, io anticipo un po' gli argomenti che poi verranno sviluppati, vi faccio solo una specie di griglia. Per quanto riguarda la diagnosi, la diagnosi si basa su tre cardini diagnostici che sono la visita urologica con l'esplorazione rettale, la determinazione dell'antigene prostatico specifico del quale parleremo più diffusamente successivamente e l'ecografia con biopsie, l'ecografia transrettale con biopsie. Una volta fatta la diagnosi dovremo in qualche modo stabilire l'estensione di malattia con altri esami e in particolare con la risonanza magnetica che sta promettendo un ottimo ruolo diagnostico sia nell'identificare la malattia che nel determinarle l'estensione e poi dovremo fare un bilancio di estensione attraverso la scintigrafia ossea o ancora meglio attraverso la PET oggigiorno. Una volta che abbiamo diagnosticato il tumore gli dovremo dare una casella gli dovremo vedere se il tumore rientra nelle categorie a basso, intermedio ed alto rischio e questo lo possiamo fare attraverso la combinazione dei tre fattori più importanti cioè il valore del PSA, lo stadio clinico che abbiamo fatto attraverso le indagini di immagine e il grading tumorale, cioè il tipo biologico di tumore. Una volta stabilito che tipo di tumore ci troviamo davanti stabiliremo qual è la cura più appropriata. Come dicevo all'inizio, il tumore della prostata non sempre deve essere trattato ma possiamo in alcuni casi, per esempio se il paziente è anziano o se il tumore si rivela biologicamente poco aggressivo instaurare un programma di vigile attesa o di sorveglianza attiva. Nelle forme organo confinate, in pazienti che hanno un'aspettativa di vita maggiore di dieci anni e che accettano, questo è importante dirlo, le eventuali complicanze dell'intervento, la terapia più diffusa è l'intervento chirurgico, la prostatectomia radicale che si può fare sia a cielo aperto, sia con tecniche laparoscopiche e robotiche anche se oggigiorno queste ultime non hanno dimostrato vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale che viene considerata dalle linee guida internazionali come il gold standard. Un'altra terapia molto praticata e molto diffusa, di cui poi parlerà la dottoressa Cafaro, la radioterapia a fasce esterni che si può fare sia spalmando il trattamento in varie sedute sia con l'immissione nella prostata di semi radioattivi e quindi in una seduta sola. Altre tecniche meno diffuse sono sempre per le forme locali, sono gli ultrasuoni focalizzati, la crioterapia, cioè il raffreddamento della prostata e questo per quanto riguarda le forme localizzate. Nelle forme avanzate invece un cardine terapeutico è l'ormonoterapia, sappiamo che il tumore della prostata come ho accennato è un tumore endocrino dipendente, quindi l'ormonoterapia è rappresentato e rappresenta il momento terapeutico più diffuso, più utilizzato, anche se oggigiorno ci sono studi promettenti anche con chemioterapici, con farmaci di questo tipo, farmaci insomma chemioterapici. Il futuro poi sarà rappresentato, come ha accennato la dottoressa, dalla possibilità di prevenzione con i vaccini o di farmaci di altre categorie come i farmaci angiogenetici, anti-angiogenetici. Io ho fatto una breve introduzione, spero di non essere stato troppo confusionale perché quando si vuole raggruppare tutto in poco tempo si rischia di non essere chiari. Quindi lascerei la parola al primo relatore della seduta che è la dottoressa Cafaro che tutti noi conosciamo e che ringrazio e saluto per il suo intervento.